Ciao, oggi ti è toccato un po' anche il lavoro sporco, oltre che la fantasia. Quali sono state le difficoltà a costruire il gioco, soprattutto nel primo tempo? Sì, oggi sappiamo che era una partita intensa, molta intensità. Sappiamo che il Monza è una squadra fortissima, però dobbiamo migliorare con palla, senza palla. Stiamo crescendo, però dobbiamo essere una squadra un po' più insieme, dobbiamo stare un po' più insieme, in difesa, in attacchi. Io credo che così, con i giocatori di qualità che abbiamo, possiamo fare una grande stazione, però dobbiamo migliorare. Senti, il Parma oggi probabilmente meritava di vincere, però non lo ha fatto. Secondo te perché? Perché non ha vinto il Parma una partita che sembrava a un certo punto potesse vincere? Sì, oggi creiamo situazioni, una traversa, due o tre palla che il portiere di loro ha stato bene, però lo possiamo fare meglio, penso che, come ho detto, adesso abbiamo una squadra con giocatori di molta qualità, penso che dobbiamo migliorare molto, come ho detto, stiamo crescendo, dobbiamo lavorare questa settimana perché sappiamo che la prossima partita dobbiamo vincere o vincere, no, perché se no non arriviamo a dove vogliamo arrivare noi, che è al primo posto, così aspettiamo lavorare bene questa settimana e vincere la prossima partita. Questo è lungo e dobbiamo lavorare. Oggi non c'era Vazquez squalificato, no? Si parla molto Brunetta, Vazquez, se possono giocare insieme, se giocate sempre insieme. Oggi come ti sei trovato a dirigere un po' da solo il centrocampo? Sì, Franco è un giocatore importante, che oggi non è stato, però è un giocatore importante, è un referente per noi dentro il campo e anche fuori. Oggi, come hai detto tu prima, è un po' raro perché senza palla non è lo mio in campo, però, come ho detto, dobbiamo migliorare come squadra, dobbiamo crescere come squadra e se cresciamo come squadra la individualità di Deni, Miaila, Tutino faranno la differenza, però dobbiamo migliorare molto come squadra. Ciao, io vorrei sapere cosa intendi quando dire dobbiamo stare più insieme, sia in attacco che in difesa, e soprattutto che cosa pensi dei fischi alla fine, se vi siete detti qualcosa nello spogliatoio, come li hai letti questi fischi? Grazie. Sì, è normale, noi capiamo, ai tifosi, è una situazione difficile per loro, anche per noi, però bisogna di pazienza, sappiamo che in casa dobbiamo vincere, oggi lo facciamo per un momento bene, peraltro non tanto, però credo che la squadra va crescendo e dobbiamo lavorare, come ho detto, dobbiamo lavorare, pedalare molto e i risultati dopo arriveranno.